Carissima comunità, buongiorno e bentornati a scuola. Porgo il più cordiale benvenuto a tutti voi dopo un anno 20-20 tanto complesso e difficile che abbiamo vissuto, i cui effetti persistono ancora oggi per via della pandemia, dovendo lamentare la morte di tante persone al mondo, la sofferenza di tante famiglie, alcune di esse della nostra comunità scolastica, la dura situazione economica di tante persone che hanno perso il lavoro e non riescono a trovarne ancora uno, parecchie famiglie della nostra scuola che per diverse ragioni di salute, economiche ed altre, hanno dovuto lasciarci. Intanto dobbiamo ringraziare di essere sani e di poterci ritrovare un'altra volta per dare inizio a un nuovo anno scolastico 2021, nella speranza di poter piano piano riprendere le nostre abitudini, i nostri spazi e i rapporti dal vivo che per le ragioni sanitarie abbiamo dovuto sospendere. Per minimizzare e tutelare la sicurezza di ognuno di noi e dei nostri compagni, professori e funzionali, dobbiamo insistere molto nel rispetto delle norme di sicurezza, che ormai le avete già imparate a memoria e che comunque vi ricorderemo insistentemente, uso della mascherina, lavaggio costante delle mani e distanza fisica tra le persone. Se rispettiamo queste semplici misure e facciamo attenzione anche ai protocolli che sono stati elaborati per questo ritorno sicuro, potremo pertanto proteggerci e proteggere gli altri. Anche la scuola ha un proprio plan passo a passo, che dovremo un po' alla volta aggiustare, fare dei cambiamenti, correggere e riorganizzare. Questo nuovo ritorno ci obbliga a dover imparare a lavorare di maniera assolutamente diversa da come ci siamo abituati a fare l'anno scorso. Di sicuro all'inizio ci saranno delle difficoltà di vario genere, che un po' alla volta riusciremo a risolvere. È importante sottolineare che nessuno di noi era preparato per far fronte a questa catastrofe mondiale che ha alterato e trasformato le nostre vite. Vorrei dare il benvenuto alla nostra comunità, a tutti i nuovi studenti e personale che si è inserito ed augurare a tutti quanti studenti, docenti, personale amministrativo e di servizio i miei migliori auguri per quest'anno che ormai è iniziato. Un caro saluto e buona giornata a tutti.